25 kg di droga rinvenuti in un appartamento fuori città è ciò che la Polizia di Stato ha sequestrato giovedì pomeriggio alle porte di Milano. L'attività svolta dagli agenti del commissariato di Via Primaticcio ha infatti preso il via dalle indagini sullo spaccio di droga in zona Lorenteggio, che svolte anche grazie all'analisi di immagini digitali e ricerche su fonti aperte, hanno portato subito i poliziotti a Vaprio d'Adda, dove in via Pascoli hanno identificato e perquisito un appartamento. Nominalmente intestato ad una donna non più residente da tempo, all'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 4,434 kg di cocaina, 1,174 kg di sciabo, 1,79 kg di hashish, 19,61 kg di marijuana, 5.300 euro in banconote da piccolo taglio, una pressa da officina con carico da 75 tonnellate, completa da forme modello di diverso calibro, buste per confezionamento, bilancini di precisione e un frullatore per la preparazione dello stupefacente. Intanto le indagini da parte del commissariato di Via Primaticcio proseguiranno per identificare i fruitori dell'appartamento e i responsabili dello spaccio di droga.